Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, torniamo allora a parlare dell'omicidio di Joel Ramirez Seipio, il 38enne ucciso di fronte ad una discoteca la scorsa domenica 1 ottobre. Come sappiamo il presunto responsabile si trova in carcere. Questa mattina i carabinieri presso il comando provinciale hanno diffuso alcuni dettagli delle indagini che hanno portato al suo arresto. E' stato arrestato ad una settimana esatta dalla tragedia. In carcere il presunto assassino di Joel Ramirez Seipio, il 38enne dominicano, morto a seguito di una rissa scoppiata all'alba della scorsa domenica fuori da un locale di Terra Nuova, Bracciolini. In manette è finito un connazionale 33enne operaio con precedenti penali rintracciato a Perugia. Una volta avuti dei sospettati e degli indagati, sono stati cercati, sono stati sentiti, alcuni hanno collaborato, altri un po' di meno e raccogliendo tutta questa serie di elementi di intesa con la tutela giudiziaria si è riusciti poi a ottenere questo provvedimento di custodia cautelare. Fondamentali le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'intera scena. Joel che lancia uno scabello contro il connazionale e lui che risponde scagliando un arghile a forma di teschio, un frammento del quale lo ha raggiunto alla giugolare e alla carotide. Dalle telecamere si capiva che chi aveva potenzialmente potuto effettuare il lancio poteva essere una persona che aveva un tatuaggio e delle scarpe rosse. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto sul sospettato queste scarpe rosse e poi anche c'erano pure i tatuaggi e perciò sono stati elementi che hanno suffragato l'ipotesi investigativa che avevamo. L'indagato si è anche presentato dai carabinieri nei giorni successivi all'omicidio? Sì, l'indagato ha saputo che lo stavano cercando perché sono andati a fare una perquisizione a casa e poi dalla compagna si è presentato a Perugia e poi durante la notte è stato sentito e ha reso in parte alcune dichiarazioni che erano convergenti con quello che stavamo accertando. Quindi il provvedimento cautelare da parte del GIP stamani l'interrogatorio di garanzia in carcere. Il cavo di impotezione è omicidio volontario, in questo momento è la rissa. Oltre 20 le persone coinvolte nella rissa scoppiata per banali motivi. Sicuramente sviluppi ci saranno, poi bisogna vedere se saranno provvedimenti restrittivi, altri tipi di provvedimenti, sicuramente ci saranno perché ci sono già degli identificati sulla rissa e ci saranno altri identificati. Resta sotto sequestro il locale valdarnese. E sono fissati per domani alle 15, martedì 1 ottobre, i funerali del 38enne ucciso appunto al termine di una rissa in discoteca in Valdarno. L'ultimo saluto a Joel sarà nella chiesa della collegiata, la stessa davanti alla quale ha più volte dato battaglia indossando i colori del quartiere di Santa Maria nel gioco del Pozzo. Joel era arrivato a Montevarchi poco più che bambino e appunto era ormai integrato nella comunità del Valdarno che domani si estringerà attorno al dolore dei familiari. Incendio nelle campagne della Valdichiana, nei pressi di un annesso agricolo o di un'abitazione, due le persone rimaste intossicate. I motivi del rogo sono in corso di accertamento. Le fiamme si sarebbero propagate all'interno appunto di una rimessa adibita a legnaia di una villa in una località isolata. Sono rimasti intossicati un uomo di 81 anni, una donna di 58, trasportati in codice giallo all'ospedale della Fratta. Ero un bullo si intitola così, un libro dedicato alla storia di Daniel Zaccaro, oggi raccontata agli studenti a Reti. A 17 anni mi sono portato una macchina, andavo in giro senza patente con la macchina. Insomma, avevo tanti soldi, potessi spendermi come volevo. Comincio a fare anche altre rapine, finché poi per fortuna, diciamo che arriva il bagno dei realtà. E' il bagno dei realtà che mi ha arrestato, prima che mi ha arrestato il mio libro e poi mi ha arrestato il mio libro. Mi hanno arrestato il 2 marzo del 2010. Il 4 marzo io avrei fatto i 18 anni. Dal carcere al riscatto, Daniel Zaccaro, milanese, ha incontrato gli studenti a Retini dell'Istituto Fossombroni Buonarroti per una giornata di confronto organizzata dall'Associazione Futuro Aretino. Sicuramente noi come associazione portiamo nelle scuole le esperienze, non gli esperti. Qui si parla di baby gang, si parla di rapine, si parla di carcere. Io sono convinta che tutti i ragazzi non siano cattivi, i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati. Una storia, quella di Daniel, che parla di sofferenza, bisogno di essere sempre all'altezza delle aspettative, cadute, fascino per il male, fino alla delinquenza, poi il riscatto. Il fatto di essere all'altezza di, di certe cose. Poi viviamo in una società che è contraddittoria, perché ti illude di poter raggiungere certe cose, che quella sia la felicità, il fatto di raggiungere un certo tipo di successo, un certo tipo di materialismo, di beni materiali, ti permette di essere felice nella vita. Però dall'altra parte le opportunità sono davvero quasi nulle. E quindi in questo sta un po' la malattia della nostra società, il fatto che ti fanno vedere delle cose che in realtà non puoi raggiungere. E ragazzi questa cosa la vivono male, perché per essere a quell'altezza lì di vita arrivo anche a fare delle cose sbagliate. E io invece ho capito che non era questo quello che desideravo. Senza Veli ha raccontato la sua esperienza personale, che lo ha portato a delinquere da quando aveva 17 anni fino ai 22, passando dal carcere minorile Beccaria e in seguito a San Vittore. Poi l'incontro illuminante con il cappellano del Beccaria Don Claudio Burgio, ma non solo, con tutte quelle figure che ruotavano attorno a lui e si occupavano dell'altro. Alla fine è diventato lui stesso un educatore e adesso la sua storia, dopo essere stata raccolta nel libro di Andrea Franzoso, Ero un bullo, potrebbe diventare un film. Trovate qualcosa che vi piace, hai detto, ai ragazzi. Scegliete una strada che vi appaga. Non che qualcuno vi ha consigliato perché ci va l'amico o perché ve lo consigliano i genitori, ma qualcosa che interiormente vi appaga. Questo credo sia un consiglio bellissimo. Assolutamente sì. Devi trovare un sogno. C'è scritto anche nel mio libro, ciascuno cresce solo se è sognato. Allora è il momento in cui tu sogni qualcosa, desideri, perché il sogno magari è più vicino a volte alla finzione, ma tu desideri qualcosa. Poi magari non raggiungi proprio quello che desiderai, però ti sei messo in moto, ti sei messo in cammino e la strada ti può rivelare cose che in realtà sono più importanti di quelle che volevi raggiungere. E oggi fai una cosa che ti piace? Oggi sì, certo. Porto avanti la mia vita, faccio un lavoro faticoso, ma molto bello, perché mi piace stare con i ragazzi e sono contento. Parliamo ancora di giovani, ma di una serie di incontri a loro dedicati sull'educazione civica. Si parlerà di storia del Novecento, di dottrine politiche, spaziando anche verso la sociologia, la geopolitica e la sostenibilità energetica. A farlo saranno alcuni dei nomi più noti del panorama retino. Si tratta della scuola di formazione civica, nata da un'idea dell'associazione culturale Fratevere d'Arno. Saranno proprio curricolari, cioè come le materie, come matematica, come lettere, come latino, greco, eccetera, riconosciute pertanto come ore di normale lezione per le scuole superiori. L'educazione civica, che è stata dimenticata da decenni e decenni, forse è opportuno cominciare a ricordarsela, forse è opportuno che qualche giovane che abbia voglia di impegnarsi per governare, amministrare la cosa pubblica, trovi qualcuno che dall'alto della sua esperienza, alto nel senso che siamo tutti vecchiotti, riesca a trasmettere un minimo di passione per il pubblico e non solamente per il proprio privato. Gli appuntamenti didattici inizieranno il prossimo 24 ottobre e saranno ospitati dalla Sala della Fraternità dei Laici. Andranno avanti ogni due settimane, sino a maggio. Solo attraverso il recupero della memoria e della conoscenza della nostra città, solo attraverso l'umiltà creatrice, noi possiamo formare e avere una nuova classe dirigente. In questa città ne abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente. Il progetto nasce da una convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. È rivolto sia agli studenti che a tutti quelli che abbiano voglia di approfondire questi temi. Questa attività nasce anche comunque da un'esigenza scolastica, perché quattro anni fa c'è stata una riforma ministeriale che ha inserito nel curriculum educazione civica. È per noi un supporto alle scuole che si sono già organizzate come integrazione di esperti. E alle scuole che non si sono organizzate, invece, è un supporto perché ci sono relatori di buon livello che possono praticamente anche appassionare i ragazzi e far capire e dare quell'input. E adesso cambiamo decisamente il registro e parliamo di cultura. Ancora due settimane con Signorelli 500, le novità della mostra che celebra il maestro cortonese ha appunto superato i 30.000 visitatori nello scorso weekend. In occasione dei 500 anni dalla sua morte, la mostra entra nel periodo conclusivo. Sarà infatti aperta fino al 22 di ottobre. Esce di scena, in questo caso, la pala con la Maddalena che rientra ad Orvieto e viene esposta invece la pala restaurata della Madonna con il bambino e i Santi Francesco, Chiara, Margherita e Maria Maddalena. Quattro angeli provenienti dal Museo d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Adesso invece ci spostiamo a Casa Bruschi perché sabato è stato ospitato all'interno di una rassegna che poi durerà fino al mese di novembre, uno spettacolo davvero originale. Racconta la Casa Museo, si intitola così una rassegna di teatro e narrazione partecipata ospitata alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Il teatro che entra nel museo, la partecipazione attiva del visitatore che diventa spettatore che è un passaggio che può sembrare semplice ma in realtà è per noi fondamentale. Quindi diamo voce alle opere d'arte in alcuni progetti di formazione per il pubblico adulti e scuole e studenti e studentesse e poi ci sono gli spettacoli che chiaramente in orari diversi, col fatto che il palazzo è bellissimo ma ha delle capienze ridotte, così cerchiamo di accontentare il più possibile spettatori e spettatrici e soprattutto cerchiamo di fare dei legami con la collezione presente qui a Casa Bruschi. Primo spettacolo per grazia ricevuta a chiaro scuro della Compagnia Teatri 35 di Napoli. Il corpo si mostra attraverso un gioco tra luci ed ombre che come nei quadri di Caravaggio arriva al pubblico per grazia ricevuta in una rappresentazione vivente dell'opera a cura degli attori. Noi quello che vogliamo trasmettere non è l'immagine identica, la rappresentazione identica, ma noi vogliamo dare l'idea, la suggestione, un po' anche far vedere al pubblico il momento in cui quella cosa stava per avvenire. Quindi poi con l'accompagnamento della musica registrata noi montiamo una sequenza, quindi quasi come se fossimo dei ballerini. La musica ci conduce come una drammaturgia e quindi noi montiamo all'interno della musica i quadri. Dopo lo spettacolo, una visita gratuita per scoprire la collezione Bruschi, la rassegna proseguirà con altri appuntamenti. Il prossimo è il 21 ottobre con fiabe da tavolo, teatro delle apparizioni, uno spettacolo per grandi e piccini che verrà fatto su un tavolo, quindi il teatro di narrazione si unisce al teatro di figura e il teatro d'oggetto per fare un viaggio dentro le fiabe. Il 28 invece si inaugura questo percorso multimediale che è frutto del lavoro, dei laboratori o di scrittura che è già partito, è già iniziato. E concludiamo questo percorso il 2 novembre, questa rassegna con Matteo Fantoni che andrà in scena con Il Silenzio. Al via nelle scorse ore, l'edizione 2023, la prima era stata davvero molto fortunata dello Youth Festival. Dopo il grande debutto della nuova stagione, al Teatro Petrarca il secondo concerto dell'Arezzo Youth Music Festival. Sul palco, Filippo Gorini al pianoforte e Giovanni Andrezza Nonna al violino, con musiche di Beethoven e Brahms. Tutta la musica crea delle emozioni, a volte nei casi di grandi capolavori sono emozioni molto profonde, molto rare e ci danno proprio la possibilità di commuoverci e di provare empatia per una persona, una grande persona, vissuta magari uno, due, tre secoli fa. Questa è la forza di questa musica ed è il motivo per cui continuiamo a suonarla secoli dopo che è stata scritta. L'obiettivo del festival, giunto alla sua quarta edizione, oltre a portare ad Arezzo straordinari musicisti under 35, è quello di promuovere la musica classica nelle scuole. È davvero affascinante incontrare tanti giovani e parlare a loro della nostra passione della musica perché si possono vedere diverse reazioni, ognuno regisce in modo diverso ma la cosa è veramente commovente vedere come a volte nei loro occhi si apra una specie di curiosità per questo mondo che non conoscono e infatti poi decidono di venire a teatro e molto spesso decidono di tornare per tutti i concerti e questo per noi è lo scopo più bello che un festival possa avere, quello di riuscire a creare un pubblico giovane e a far provare emozioni a un pubblico giovane. E adesso invece ci spostiamo a San Giovanni Valdarno dove torna appunto a casa Giovanni da San Giovanni, una mostra in collaborazione con le gallerie degli uffizi. Il valore di Giovanni da San Giovanni di essere un protagonista del suo periodo e che aveva effettivamente una presenza non solo a Firenze, non solo nella Toscana ma anche a Roma, nell'Urbe. Giovanni da San Giovanni torna a casa nel Valdarno, un viaggio nell'arte del pittore attraverso dieci tondi dipinti su stuoia e altre opere provenienti dalle gallerie degli uffizi e da altre collezioni. Portiamo a San Giovanni delle opere che non erano mai qui ma che testimoniano dell'importanza di Giovanni e di San Giovanni anche nella realizzazione di temi che vanno oltre i temi standard e quindi anche l'inventività di questo pittore straordinario. Bizzarro e capriccioso umore, Giovanni da San Giovanni pittore senza regola alla Corte Medicea è la nuova mostra di Terre degli Uffizi ospitata fino al prossimo 31 marzo nel Museo delle Terre Nuove e nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Noi ne facciamo parte da due anni, lo scorso anno con una mostra importante dedicata a Masacce e Beato Angelico che ha riscosso un significativo successo di visitatori e quest'anno diamo spazio ad un altro San Giovanni Sedoc, Giovanni Mannozzi detto Giovanni da San Giovanni. Nato nel 1592, morto nel 1636, è emerso nel panorama del primo seicento per il suo originale gusto neomanieristico, per le sue pennellate sintetiche, per la freschezza dei suoi colori e per il suo particolare estro tanto da portare a parlare di pittura proto-impressionistica. Grazie ai curatori è diventato un percorso eccentrico, fuori misura formale perché Giovanni da San Giovanni consente quasi con un ritmo di sensibilità contemporanea di parlare di eccentricità e di fuori regola. Una notizia a metà tra lo sport e la cronaca perché la coda della partita Montevarchi-San Giovannese ha avuto dei momenti di tensione proprio fuori dallo stadio quando la polizia ha scortato i tifosi azzurri verso la stazione. Ci sarebbe stata l'esplosione di un grosso petardo che ha generato molta confusione con anche due poliziotti che si sarebbero feriti leggermente. Non sono da escludere dei daspo ovviamente da parte della questura. E adesso siamo invece allo sport giocato. Iniziamo subito con l'Arezzo calcio femminile rimontata dalla Lazio per due gol a tre. Al comunale di Castiglione-Vibocchi la Lazio si impone due a tre in rimonta su un'ottima Arezzo calcio femminile che per lunghi tratti di partita ha giocato alla pari contro una squadra tra le più quotate del girone. Contro la Lazio comunque hanno giocato molto molto bene. Il risultato direi dal mio punto di vista anche bugiardo perché purtroppo è brutto dirlo ma ci sono delle situazioni, degli episodi che hanno condizionato sicuramente questo risultato e non è la prima volta. Amaranto in vantaggio al diciassettesimo con Nocchi, poi il raddoppio di Plonera al ventiduesimo. L'Arezzo calcio femminile gioca la grande e sfiora il 3-0. Poi la Lazio accorcia le distanze al trentacinquesimo con Vicentin ma nel primo tempo l'Arezzo calcio femminile è stata per lunghi tratti padrona del gioco. Nella ripresa parte forte la Lazio e pareggia al sessantacinquesimo su calcio di rigore realizzato da Moraca. Le Amaranto subiscono il colpo e tre minuti dopo la Lazio passa avanti con un gran gol di Pittaccio. Vincono le Bianco Celesti ma le Amaranto escono dal campo a testa alta. Siamo entrati molto bene, primo tempo con questo pressing del primo secondo, non l'ultimo minuto e siamo entrati molto bene, abbiamo fatto questi due gol, abbiamo anche avuto l'opportunità per fare tre e poi sì, va bene. Abbiamo alla fine del giorno limitato una squadra a un rigore e un calcio qui da 35 metri che è entrata nell'angolo. Quindi complimenti a tutti, sono molto orgoglioso delle mie giocatrici, non ho parole perché hanno seguito tutto, hanno fatto un grandissimo lavoro tutta la settimana e durante tutta la settimana e la prestazione oggi non ho parole, sono molto molto contento e orgoglioso. Secondo me abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto pressione, quello che ha chiesto mister da noi e penso che abbiamo fatto molto bene. Ed infine parliamo di basket perché purtroppo è andato male l'esordio casalingo dell'AMENBC Servizi al Palasport Estra. Il nostro servizio. Prima sconfitta stagionale per l'AMENBC Servizi Arezzo che stecca la prima al Palasport a testa al cospetto di Quarrata. Inizio contratto delle due squadre che non riescono a trovare con facilità la via del canestro, sono comunque gli ospiti a provare il primo a lungo con Regoli che fa valere la sua fisicità segnando 5 punti consecutivi. Dopo i 14 pari della prima frazione di gioco, Quarrata prende il comando della partita con tre triple di Antonini che spaccano la partita. L'AMENBC Servizi non riesce a tenere il passo degli avversari faticando a superare l'aggressiva difesa dell'avversario. Così all'intervallo gli amaranto vanno negli spogliatoi con 26 punti realizzati a fronte dei 35 avversari. Nel terzo periodo l'inerzia della gara non cambia, l'AMENBC Servizi non riesce a sbloccarsi nella fase offensiva mentre i pistoiesi riescono a trovare con continuità punti dentro l'aria pitturata. Il vantaggio ospite si dilata prima sul 41-55 della terza sirena, poi ad inizio ultimo quarto, Quarrata tocca il più 20, 45-65. La reazione della SBA arriva troppo tardi, i ragazzi di coach evangelisti tornano sino a meno 10 ma gli ospiti sbloccano ogni tentativo e il tempo è amico della squadra di coach Tonfoni che chiude la partita sul 75-65 finale. Un passo indietro per gli amaranto dopo la vittoria di Sestri, ma pretendere consapevolezza dagli errori fatti sarà una qualità importante per preparare al meglio i prossimi impegni di campionato. Penso si sia visto la differenza da una squadra esperta che ha 5-6 giocatori di serie B vera, è una squadra molto giovane che sta provando a crescere. abbiamo concesso 20 tiri liberi, al di là del pressing alla fine per cercare di recuperare, ma sul rimbalzo in attacco, su movimenti di esperienza in cui loro sono molto bravi, poi in attacco abbiamo fatto fatica a fare canestro, era una giornata al no. penso si sia visto veramente tanto a livello proprio mentale la differenza di categoria stasera. Sicuramente qua Rata mentalmente è stata più pronta di noi, Marco ci aveva dato le indicazioni per non subire la loro aggressività, la loro fisicità, purtroppo sono stati più bravi di noi in tutto, sotto canestro ci hanno preso sempre dei vantaggi, hanno preso penso almeno 15 rimbalzi offensivi e loro da questo chiaramente hanno tratto tanto vantaggio, quindi sono stati più bravi in questo e bisogna lavorare per preparare ancora meglio le partite per arrivare più pronti a questi tipi di match. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortesia e attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.